Ok, ripassiamo insieme per il concorso scuola. Mi raccomando, non imbrogliare. Per formulare la tua risposta, tieni premuto sul reel, così la mia voce si ferma e tu hai tempo per pensare. Per quanti anni era impartita l'istruzione elementare secondo la legge Casati? Ti do un piccolo aiutino, siamo nel 1859. La legge Casati aveva stabilito quattro anni di istruzione elementare, dunque la risposta corretta era la C. Ed ora, seconda domanda, quale documento legislativo ha formalizzato l'adozione del modello nazionale di PEI? La risposta corretta era la A. Il decreto interministeriale del 2020 recava come titolo proprio trasmissione del modello nazionale di piano educativo individualizzato. Ed ora domanda numero 3. Chi deve trasmettere alla scuola la certificazione di disabilità di un alunno iscritto? La risposta corretta è la D. I genitori sono gli unici che per questioni di privacy possono trasmettere documentazione privata. Domanda numero 4. Quale autore ha descritto l'adattamento ambientale come la combinazione tra i processi di assimilazione e adattamento? La risposta era la D. Piaget. Fammi sapere se ti piace questa modalità di allenamento, se vorresti altri reel come questo e mi raccomando, raccontami com'è andata con le risposte. Tutte le domande sono state prese da questo volume, quiz commentati di Edis. Se ti interessa acquistarlo col mio link affilato e codice sconto, fammelo sapere nei commenti. Sconto, fammelo sapere nella scuola la incontragione alla scuola. Grazie.